Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. In apertura torniamo a parlare di emergenza pala giustizia. Sono sette le aule di udienza e nove gli uffici per i giudizi del Tribunale monocratico trasferiti nella ex sezione di staccata di Modugno. Ma i dipendenti si lamentano, sembra un call center in servizio. Hanno ricevuto ordine di non parlare con i giornalisti. L'accesso alle telecamere è inibito, almeno per il momento. Eppure nell'ex sezione di staccata di Modugno, dove da questa mattina sono in servizio cancellieri e giudici del Tribunale penale di Bari, l'umore è pessimo. Ci hanno sistemato come fossimo asini, si spoga un dipendente, che senza entrare nei dettagli parla di stanzoni che saranno adibiti a cancellerie con circa nove persone, tutte insieme. Sembra un call center, dicono. Sono 53 in tutto i cancellieri che dovranno lavorare nella sede di staccata, oltre a 15 giudici, alcuni dei quali però fino al 30 settembre saranno allocati provvisoriamente in piazza De Nicola. L'ingresso alla stampa, dicevamo, inibito, ma è comunque possibile scorgere il trasloco ancora in corso. Faldoni pieni di carte vengono introdotti nella struttura dove contestualmente, nelle aule al piano terra, sono in corso grandi pulizie. Tra i problemi più urgenti, certamente la mancanza di parcheggi, lo spazio utile più vicino, l'ampio slargo vicino alle piscine dove il giovedì viene allestito il mercato, e troppo lontano, comunque, si lamentano i nuovi inquilini della struttura. Attivo da quest'oggi una sorta di servizio navetta, con il bus della Polizia Penitenziaria, che accompagnerà il personale da Bari a Bodugno, ma sembra che nessuno, almeno per ora, ne abbia usufruito. A Bodugno, infine, sono state ricavate sette aule di udienze e nove uffici per i giudici del Tribunale monocratico e delle due sezioni collegiali. La sede, però, non sarà aperta al pubblico prima di ottobre. Cambio al comando dei carabinieri pugliesi. Alfonso Manzo succede a Giuseppe Cataldo. Il passaggio di consegni è avvenuto in una cerimonia ufficiale tenutasi dalla caserma Bergia di Bari. Roberto Maggi. Tre anni di risultati importanti raggiunti ed efficace contrasto alla criminalità, avvicendamento ai vertici del comando Legione Puglia dei Carabinieri. Il generale di brigata Giovanni Cataldo va in Sicilia e lascia il posto del generale di brigata Alfonso Manzo. Un passaggio di consegni è celebrato in una cerimonia ufficiale alla presenza del comandante interregionale Carabinieri Ogaden, generale di Corpo d'Armata Vittorio Tomassone. Un triennio che si chiude certamente con un bilancio molto positivo, ultimo all'operazione condotta dal ROS, con oltre 100 ordinanze di custodia cautelare che hanno disarticolato alcuni importanti sodalizi criminali baresi. Del resto lo stesso Cataldo fatica a nascondere la commozione per un periodo di grandi soddisfazioni professionali e di grande lavoro compiuto dai carabinieri pugliesi. Il bilancio è assolutamente positivo, sia dal punto di vista dei risultati operativi che sono stati conseguiti in questi tre anni. Sono soddisfatto per come i carabini della Puglia abbiano operato, non solo per la professionalità, ma per la dedizione, lo slancio e la lealtà che ha sempre caratterizzato il loro operato. L'unico rammarico è che avrei voluto che fossero raggiunti traguardi più significativi nel contrasto dei patrimoni illecitamente conseguiti. Mi riferisco alle misure di prevenzione che sono state comunque considerevoli, ma sono convinto che avrebbero potuto essere migliori perché i capitali illecitamente sono una turbativa dei mercati, una turbativa dell'economia sana. Al suo posto, come anticipato, prende il comando il generale di brigata Alfonso Manzo, di origini campane. Il neocomandante ha ricoperto ruoli di prestigio in altre grandi città italiane, ultimo il comando della legione allievi di Roma. Il territorio pugliese è fantastico, la popolazione altrettanto, non mancheranno sicuramente le sfide per l'ordine della sicurezza pubblica che i comandi provinciali della Puglia sapranno fronteggiare al meglio, quindi una sfida che accetto con grande gioia. Alberi completamente sradicati, strade allagate, traffico in tilte, questo il bilancio di appena un'ora di pioggia a Bari dopo la tromba d'aria che si è scatenata ieri pomeriggio. Problemi anche in piazza Diaz, un albero è caduto a pochi passi dalle giostrine allestite per i più piccoli. Torna Everest, il campus estivo del centro-destra, tante le novità per questa sesta edizione che si terrà come di consueto a Giovinazzo dal 7 al 9 settembre. A presentarle è stato il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli. Everest 2018 si ripete anche quest'anno, questo appuntamento molto importante per il centro-destra e per Forza Italia. Quali saranno le novità che ci dobbiamo attendere? Siamo giunti alla sesta edizione e i protagonisti di questo evento sono sempre i giovani. L'infa vitale per il nostro partito, per la nostra organizzazione. Ci saranno presidenti di regioni, da tutti al presidente della regione Molise, i capigruppi di Camera e Senato, tutti insomma autorevoli esponenti politici del centro-destra italiano e soprattutto appunto di Forza Italia. I temi principali saranno il sud, che è un tema molto forte da mettere al centro di un'agenda di governo, le infrastrutture, considerato quello che è avvenuto a Genova, ma siamo insomma soltanto all'ennesimo caso, che è quello della regione Liguria e quindi importante il tema delle infrastrutture. All'Europa infatti ci sarà il presidente del Parlamento europeo, il vicepresidente nazionale di Forza Italia Antonio Tagliani e insieme a questi argomenti naturalmente una nuova proposta per il centro-destra e per Forza Italia. Sono stati beccati in campagna con 25 kg di marijuana oltre un chilo in auto e circa 24 kg nascosti in un trullo poco distante da loro e per questo sono stati arrestati. Si tratta di tre uomini, un 33enne di Terlizzi, un 40enne e un 27enne di Giovinazzo, tutti già noti alle forze dell'ordine. L'accusa nei loro confronti di detenzione e i fili di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre sono stati sorpresi, incontrata a Santa Lucia, agro di Giovinazzo, all'interno di una BMW di colore nero dove i militari hanno rinvenuto, occultati sotto il sindile anteriore, lato passeggero, una busta che copriva un involucro contenente oltre un chilo di marijuana. La conseguente perquisizione eseguita subito dopo in un trullo distante poche decine di metri, le cui chiavi d'accesso non è la disponibilità di uno dei tre giovani, ha consentito ai carabinieri di rinvenire oltre 23 kg della stessa sostanza. Dopo l'arresto su disposizione della procura di Trani, i tre sono stati portati in carcere. La droga invece è stata sequestrata. Sesta edizione della Puglia Land Festival, in programma della Casa Rossa di Alberobello, il 7, l'8 e il 9 settembre. Tutti i dettagli nel servizio. Artisti che espongono in tutto il mondo, dalla Russia al Giappone, dal Cile all'Australia, per una rassegna che propone al pubblico arte a 360 gradi. Opere contemporanee, letteratura, talk, musica, teatro, cinema e laboratori. E tutto questo la sesta edizione della Puglia Land Art Festival, che quest'anno si svolgerà il 7, l'8 e il 9 settembre, nella Casa Rossa di Alberobello, nella cui storia ci parla uno dei soci dell'omonima fondazione. Questa Casa Rossa, che è un ex campo di internamento ebrei, però fino a quell'epoca si sapeva ben poco di questa Casa Rossa. Più che campo di concentramento, perché campo di concentramento, ma di transito, è stato un campo di internamento ebrei. Cioè transitavano e venivano ospitati bene ad Alberobello. Tant'è vero che lo stesso Podestà, lo stesso direttore del campo di internamento, Donato Gian Grande, ha rischiato delle sanzioni amministrative all'epoca, perché era requisito dal Ministero di Grazie e Giustizia, perché ospitava, proprio presso lo studio dentistico, uno dei professionisti, un dentista a lupo, che si trovava presso la Casa Rossa. E sotto la curatela di Carmelo Cipriani, giornalista e storico d'arte, saranno esposte le opere con un minimo comune denominatore, i 2100 metri quadrati di memoria, storie e percorsi della Casa Rossa. Particolare attenzione agli interventi di Land Art, realizzati con materiali naturali rigorosamente dessunti dal luogo. Il festival si compone di più sezioni, una sezione di residenza di Land Art, una residenza artistica, quindi già ci sono gli artisti al lavoro dal 29 agosto, che produrranno delle opere che lasceranno poi nel terreno, più una sezione di installazioni ambientali dal titolo doppio contrasto che curerò io e saranno delle opere che resteranno in permanenza nel comune di Alberobello, come patrimonio della collettività. Tra le opere più attese è quelle che portano la firma di Pasquale e Nini Santoro. L'artista realizzerà una grande installazione nello spazio esterno della Casa Rossa. All'interno invece sarà possibile ripercorrere la sua incredibile carriera attraverso le opere grafiche e le sculture realizzate negli ultimi 40 anni. Cosa sarà possibile ammirare ad Alberobello? Ad Alberobello ci sono delle cose che ho fatto negli anni 70, che sono state esposte al Museo d'Arte Moderna di Parigi, e poi alcune cose degli anni 80, quelle del 60-64, no, perché sono spersi da tutte le parti. E poi c'è l'ultima produzione che ho fatto, che non è un prodotto di formaggio, ma sono dei skyline di New York. Da una parte, perché ho fatto 4 anni fa, sono andato a far compleanno lì, ho fatto questa cosa che mi è rimasta, e d'altra parte un omaggio a una poetessa francese che parlava del sonno e del sogno. Si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città la premiazione dell'Associazione Onlus Tempo Libero Bari per la meritoria attività svolta in favore della comunità. La Onlus attiva dall'anno 2000 conta 900 famiglie iscritte, promuove iniziative socioculturali e sportive finalizzate a sostenere persone che versano in condizioni di disagio, anziani e bambini che per sfortuna o necessità si trovano in condizioni di maggiore fragilità. Il circolo della Vera Bari vola in Europa e si aggiudica alla Sailing Champions League, campionato europeo di vela a squadra e del tutto equivalente a quello che nel calcio rappresenta la Champions League con Simone Ferrarese, Corrado Capece-Minutolo, Leonardo Dinelli e Valerio Garati. Il bianco e rosso del circolo della Vela Bari è salito sul gradino più alto del podio. Superate le prove di qualifica nazionale e internazionali, il circolo Vela Bari è entrato a far parte dei migliori 31 club europei da 12 nazioni diverse, conquistando un posto nella finale di St. Moritz. Sempre domenica poi è arrivato un secondo successo per il circolo della Vela Bari e per la sua Claudia 40, reduce dalla vittoria del campionato europeo a squadre di classe Optimist. L'informazione termina qui, vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it ed ora vi lascio al meteo. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo e diamo uno sguardo alla tendenza per la giornata di martedì che vedrà piano piano l'alta pressione ritornare sul bacino del Mediterraneo con una maggiore stabilità, anche se qualche piovasco potrebbe riformarsi a ridosso dell'area alpina e alcuni settori interni del centro Italia, così come della Sardegna, zone interne che potrebbero vedere ancora isolati temporali o scrosci di pioggia. Per quanto riguarda la nuvolosità, beh, guardate maggiori aperture del cielo sulla nostra penisola, anche se un po' di variabilità è in arrivo sulla Sardegna e poi, come vi dicevo, nel pomeriggio a ridosso dei nostri rilievi montuosi. Prossima grafica che ci fa vedere appunto qualche isolato fenomeno possibile sulle nostre montagne, dorsale appenninica, vi segnalo le temperature in aumento, comunque siamo attorno ai 26-30 gradi, non di più un caldo assolutamente moderato e ancora gradevole. Rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo visitando il nostro sito web. Grazie a tutti per aver guardato il nostro sito web.